Ciao a tutti, sono Adolfo Rollo, promotore Evolution Travel da maggio 2007. Ho preso la decisione di entrare in Evolution Travel perché mi dava la possibilità di realizzare il mio sogno, che è quello di vendere viaggi da casa. La fortuna di aderire a un network è quella di lavorare in un team ed avere il supporto specializzato da parte di colleghi su alcune destinazioni a me poco conosciute. Sono da qualche anno promotore riferimento prodotto per quanto riguarda la Sicilia. La stagione estiva è andata abbastanza bene, mi ritengo soddisfatto. La Sicilia è una meta molto richiesta durante il periodo estivo, ma tra virgolette non è solo il classico soggiorno mare. gode di un clima mite per 10 mesi l'anno e ha una vasta gamma di offerta. Quindi si possono proporre tour, i fly and drive, gli itinerari enogastronomici, ci sono le città d'arte, c'è tantissimo da visitare. Il mio obiettivo è quello di diventare tour operator su questa destinazione, promuoverla sul mercato nazionale e anche estero. Magari è un obiettivo molto importante che mi pongo in futuro. I punti di forza del modello Evolution Travel sono notevoli. Innanzitutto il supporto della sede, quindi dell'assistenza marketing, del booking, del commerciale e dell'assistenza amministrativa. Siamo tour operator su molte destinazioni e abbiamo degli importanti contratti commerciali con i maggiori tour operator che ci permettono di essere molto competitivi sul mercato. Un altro fattore è senz'altro la formazione. Quasi giornalmente vengono tenuti dei corsi su piattaforme e-learning. Questi ci permettono di essere sempre aggiornati. La formazione è alla base di ogni singolo promotore. E infine, promuovendosi online, possiamo andare a promuoverci sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale. E infine, promuovendosi online, possiamo andare a promuoverci sia sul mercato nazionale che sul mercato nazionale che sul mercato nazionale che sul mercato nazionale. Grazie. Grazie. Grazie.